salve carissimi ctutubi sono francesco bentornati nella soffitta di camera mia benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla venerdì scorso ho fatto una live in cui ho parlato in diretta con voi di anteprima 330 in questo video riparlo di anteprima 330 cercando di sintetizzare un po quello che è emerso visto che in quel video ne abbiamo parlato per più di un'ora solo di anteprima poi dopo abbiamo fatto due chiacchiere e quant'altro quindi per chi ha visto il video la live ha seguito la live in diretta più o meno ripeterò più o meno quello che ho già detto in quel contesto in quel video lì e qui cercherò di fare un pochettino più ordine fare un pochettino di sintesi sulle principali novità per chi magari non vuole sorbirsi un video di un'ora solamente di analisi di anteprima e magari in una qualità un pochettino più alta rispetto alla live che effettivamente con la mia connessione è stata un pochettino carente andiamo con ordine questo giro non ho il foglio con tutte le novità ho qui il mio cellulare con il pdf di anteprima ovviamente metterò qui alla mia sinistra come al solito tutte le immagini tratte da questa anteprima le immagini principali a partire in realtà dall'editoriale di enrico sutera che è lui e non alex bertani a fare gli editoriali di questa di queste anteprima non ho capito perché però va bene cioè nel senso non ho capito perché hanno scelto lui e non alex bertani a fare questi editoriali però una voce diversa e ci sta l'editoriale in realtà non dice particolarmente nulla di rilevante nulla di che poi non venga sviluppato dopo tranne che è presente un'immagine tratta da un albo che è la remaster di rimasta una ricolorazione di papri nick e l'intrepido signore del fuoco perché partiamo da questo a questo punto perché verrà fatta una super deluxe rimasterizzata restaurata se vogliamo quindi ricolorata in realtà di questa classica storia di martina e de vita la storia l'ho letta di qualche annetto fa ricordo che fosse piacevole ricordo che è una storia abbastanza cardine in realtà una storia abbastanza cult per il personaggio però non ho ecco tutta questa gran voglia di impiegare 30 euro personalmente per la stessa storia semplicemente ricolorata perché la super deluxe come al solito sarà il formato più grande in assoluto tra i formati disney e anche più grande della limited deluxe e sinceramente lo sto guardando lì non ho uno spazio di libreria grande tanto quanto per poterlo contenere quindi non ha senso per me acquistarlo perché non ho uno spazio proprio fisico no magari qui in basso ci starebbe in questa libreria però va bene semplicemente perché la storia è ricolorata posso capire che ai fan che è piaciuta quella storia ai fan di vecchia data i fan che vogliono festeggiare paperinic alla grande vogliono avere un prodotto del genere capisco che possa essere intrigante piacevole e che quindi possano volerlo acquistare io semplicemente me ne tiro fuori perché comunque 30 euro semplicemente per questa storia non mi convincono avessero fatto la stessa cosa con il diabolico vendicatore cioè la primissima storia di paperinic ci avrei ripensato perché è una storia a cui sono già più legato per tanti motivi è una storia che a me è sempre piaciuta e rivederla magari ricolorata totalmente con una scelta di colori più moderna rispetto a quella che era stata fatta all'epoca dove c'erano dei limiti anche tecnici nella colorazione e la cosa magari non lo so l'avrei tenuta in considerazione quindi per me è un volume che io non acquisterò però se vi piace paperinic se siete dei fan di questa cosa qui sì se non conoscete neanche la storia probabilmente vi conviene cercarla in un formato più economico prima di andare a investire effettivamente 30 euro per questo volume torniamo ai topolini ai topolini che usciranno tra marzo e aprile anteprima si è dovuta adeguare a questa cosa qui a segnalare effettivamente le uscite dei due mesi dopo e non del mese successivo questo implica che a livello più o meno generale non ci danno informazioni sui vari topolini il che è un problema non lo so diciamo che sicuramente non ho l'aspettativa di che cosa mi arriverà perché non lo so che cosa mi arriverà dall'altro lato su anteprima vediamo semplicemente un elenco di numeri a sto punto non mettermelo non ha senso ci sono però delle novità riguardanti dei topolini speciali che hanno degli allegati a pagamento e anche qui un pochettino capisco che alcune sono proprio delle chicche da collezionisti delle cose che magari possono interessare o non interessare le analizziamo e vi dico che più o meno penso di prenderle tutte perché per un motivo o per un altro mi intrigano la prima cosa che è presente è il medaglione di Wizard of Mickey allegato al topolino 3303 quindi in uscita tra un paio di settimane Wizard of Mickey sapete è una serie che ha su cui ho veramente un rapporto contrastante quindi un rapporto di amore e odio all'ennesima potenza però il medaglio, la collana con il medaglione del primo numero del logo principale della serie è una cosa che a me intriga particolarmente quindi lo prenderò semplicemente perché ci sono legato alla prima serie e quel logo mi piace tanto anzi a proposito ai tempi non avevo comprato la variant del primo numero di Wizard of Mickey perché non ero un collezionista a quei livelli non avevo soprattutto facoltà economica cioè la voglia di spendere comunque quant'era 4 e 6 mi sembra 4 e 5 9 euro per avere due copie dello stesso volume per avere la variant avevo preferito l'edizione regolare perché era un pochettino più in linea con tutto quanto se avete la variant e non sapete cosa farne contattatemi in un qualche modo che possiamo un attimo entrare in contatto e trovare un modo per agevolarmi nella ricerca si lo so che sembra molto un datemi la mano da acquistare un volume usato però che è un pochettino lo è però effettivamente la butto lì se volete se sapete come aiutarmi ditemelo si prosegue invece con il topolino 3306 che costerà 3 euro non è segnato come super topolino quindi dovrebbe essere il default con in allegato un albetto un filino più piccolo di topolino con delle chicche per i 70 anni di topolino per l'appunto 96 pagine si tratta quindi di un albo anche comunque un centinaio di pagine come se fosse un metà topolino come se fosse un topolino e mezzo al costo di 3 euro non mi è chiaro se questo topolino qui mi arriverà a casa con l'allegato con l'abbonamento o se invece devo probabilmente sento comunque a sto punto l'ufficio clienti perché voglio sapere se devo acquistare questo topolino in edicola o se mi arriva a casa con l'allegato e poi decidere da farsi diciamo che l'allegato comunque mi intriga e il fatto che costi 30 centesimi in più mi fa dire vabbè facciamolo prendiamolo sul topolino 3307 sarà possibile acquistare anche quindi ci sarà la versione regolare ma ci sarà anche una placca in metallo che riproduce la primissima copertina di topolino se fanno come ha fatto per altri albi della marvel credo che ci siano degli elementi in rilievo quindi la cosa è carina non sono un fan di questo tipo di prodotti non li ho mai acquistati però essendo forse il mio unico modo per festeggiare i 70 anni di topolino è una cosa carina da collezione per 5 euro penso di farlo non è tra le mie priorità però è un investimento che sento di poter sostenere ecco una tantum una placca del genere che riproduce una bella copertina di topolino e qui ne penso che ne parleremo tra pochissimo quindi andiamo avanti sul topolino 3308 sarà disponibile un blocco note costerà in totale 6 euro quindi non so neanche che qualità abbia quante pagine abbia come sia messo questo blocco note che avrà delle dimensioni boh è piccolino sono 8 centimetri e mezzo per 15 quindi è piccolino però ci sta e non lo so penso di non lo so la copertina è caruccia il prodotto potrebbe essere carino c'è scritto che ci sono più varianti a livello di colore quindi l'esterno potrebbe essere o bianco o giallo non lo so che colori potrebbero metterci con questo disegno di topolino sottofondo però vediamo potrebbe non lo so sono indeciso se prenderlo o non prenderlo perché non è un prodotto che mi intriga particolarmente che mi mi serva poi effettivamente un blocco note così capisco che sia carino però ecco posso anche farne abbastanza meno proseguendo invece c'è una varia 3309 sarà un topolino variant quindi a Napoli Comicon sarà possibile acquistare una versione speciale al pezzo di 7 euro ma non viene detto nulla e al solito io non preordino sulla base del nulla cioè il mese scorso erano annunciato che ci sarebbe stata una variant per il Wizard of Mickey non l'hanno mostrata io non l'ho preordinata qui viene mostrata che ci sarà una variant per Napoli Comicon non viene mostrata io non la preordino piuttosto aspetto di vedere la copertina definitiva e poi valuto se acquistarlo o meno valuto se però qui è un po' un cane che si muore della coda cioè magari mi piace molto la copertina alternativa non mi piace la regolare e magari vorrei acquistare solo l'alternativa però a casa mi arriva la regolare perché sono abbonato è una scelta che non concepisco quella di non mostrare l'immagine o anche un work in progress dell'immagine cioè mi segni che l'immagine è quella mi fa vedere lo schizzo del disegno che ha fatto l'autore non è definitivo però mi faccio un'idea di che disegno c'è che cosa c'è se mi può piacere o meno invece mettermi un punto interrogativo sinceramente un punto interrogativo te lo butto in faccia cioè non me ne faccio niente andiamo avanti che forse è meglio l'iniziativa per festeggiare i 70 anni di Topolino è un volume come ne ha fatti tanti la Sergio Bonelli editore con le copertine dei Topolini una selezione perché se no sarebbero 3000 copertine e capitemi 3000 copertine in un volume vuol dire avere un albo di 3000 pagine minimo anzi 300 e 2 un po' improbabile quindi fanno una selezione sulla base di coda non si sa sul perché fanno quella selezione non si sa però ci sta alla fine cioè non puoi farmi un volume da 3500 pagine sinceramente il concept allora mettermi la copertina del primo numero di Topolino in copertina ci sta lo stesso disegno ci sta a vederlo così sembra un prodotto un po' raffazzonato a livello di copertina mi pare molto troppo minimal il logo le copertine di Topolino con quel fonte non mi piace proprio presumo che sia per questo che è segnato come cover work in progress perché ancora non hanno definito il logo ok e forse qualcos'altro non penso di prenderlo perché non è un prodotto che mi interessa quindi qualunque critica posso muovere un po' fine a se stessa perché spero che spero che oltre alla copertina sarà presente anche una spiegazione del perché sono state scelte quelle copertine quindi una descrizione un pochettino della copertina del perché che è un topolino importante però per ora non possiamo saperlo anche perché non mi sembra esserci segnato quindi boh io non lo prendo cioè probabilmente se mi capita ci do un'occhiata se non mi capita amen non lo preorgio magari vedo se qualcuno lo compra fa un video a riguardo giusto per vederlo però non è tra le mie priorità di recupero andando avanti tanto vedete che sto facendo probabilmente dei salti ma ritornerò anche sui prodotti che ho saltato la guida di paperopoli che costerà 4,90 euro sarà possibile acquistarla col cofanetto a 7,90 o col cofanetto con la guida di topolinea a 12,50 ovviamente per chi non ha acquistato niente prendere il cofanetto con tutto conviene c'è un minimo di risparmio però ecco siamo lì in questo giro il risparmio è meno di quanto dovrebbe essere perché comunque sono 10 due volumi più 2,50 euro di cofanetto quando il volume è singolo col cofanetto il cofanetto viene 3 euro allora la guida di paperopoli è stata fatta diversi anni fa su topolino e mi ricordo essere su più di 5 itinerari quindi la guida da sola sarà bella corposa se poi inseriscono anche tutte le storie ho il dubbio che nelle 200 pagine segnalate per il prodotto non ci stiano tutti gli itinerari e tutte le storie che avevano fatto ai tempi il fatto che si è segnato che siano tanti itinerari e non tutti gli itinerari potrebbe farmi pensare che facciano una cernita per qualche motivo o che vogliano fare un secondo volume più avanti e questo mi frena un po' questo mi frena un po' cioè da un lato mi piacerebbe e probabilmente prendere l'edizione col cofanetto per il semplice fatto che comunque ce li ho lì radunati raccolti tutti e due insieme potrebbe essere carino il cofanetto che venire fuori non è una cifra folle 3 euro per il cofanettino quindi potrei anche fare la mattata e farci l'investimento di buttarci 3 euro per avere i due volumi completi col cofanetto però 3 euro in più rispetto al volume base che probabilmente comprare il volume penso di comprarlo un po' di default però effettivamente non sapere se saranno tutti gli itinerari e tutte le storie un po' mi scoccia parecchio ed è un po' il problema degli albi disney su anteprima che non viene segnalato il loro effettivo contenuto ma viene buttato un po' lì che cosa potrebbe essere proseguendo invece abbiamo un albo che si intitola Lorenzo Pastrovicchio che penso non sia il suo nome definitivo farà parte della collana speciale disney e la collana speciale disney era la collana che ormai è giunta all'83esimo numero quindi una collana un contenitore anche piuttosto datato di topolino che ha ospitato negli ultimi anni le varie special edition quindi i metalli il fluo il classic e le extra questo mi fa pensare che quel tipo di pubblicazione continuerà le extra si siano concluse senza il loro cofanetto quindi i fan dei cofanetti rimarranno delusi perché non avranno il cofanetto con le extra mossa bruttina a mio parere perché comunque per chi li ha acquistati tutti i cofanetti è bruttino non avere il cofanetto della quarta serie chiamiamola così di questo tipo di prodotti e si inaugura un nuovo filone o probabilmente questo qui è una extra non dichiarata come sapete non sono fan dei volumi monografici su un disegnatore perché comunque ci saranno più artisti più sceneggiatori che invaderanno un pochettino il volume e tendenzialmente preferisco una disomogeneità a livello di disegni ad una coerenza narrativa dell'autore che non viceversa in questo caso qui comunque mi sento abbastanza fiducioso perché comunque mi dici che ci sarà il caso sottilissimo di Casti che è una bella storia c'è una storia con Alessandro Sisti che ho non mi ricordo è un nome che ho già sentito ma non ho ben chiaro quale storia sia e comunque ci sono sicuramente altri validi artisti tra i quali Francesco Artibani con il quale Pastrovic ha collaborato molto e non solo per le storie su PK quindi di Riffa o di Raffa è un volume che si preannuncia anche interessante per gli autori coinvolti quindi è una collana che ho seguito finora e che mi va di proseguire ho acquistato anche i numeri che mi sono sembrati un pochettino più scarsi quelli quelli dell'agente Ciccio e Dinamite Blah il fatto è che sembra inaugurarsi una specie di Artist Edition dedicati ai disegnatori piuttosto che agli sceneggiatori che è un po' secondo me un problema cioè come vi dicevo mi piace la coerenza di sceneggiatura e la preferisco alla coerenza di disegni e quindi la cosa non mi fa impazzire mi sono piaciuti molto i volumi che invece avevano tutte le storie o comunque una selezione di storie di una coppia di autori quindi quella cosa lì mi piace perché comunque c'è coerenza a livello di sia di disegno che di sceneggiatura però ecco se mi parli di un artista che ha disegnato tante storie di un certo rilievo per tanti artisti di rilievo la cosa comunque può essere comunque credevole quindi Lorenzo Pastrovicchio è un volume che prenderò mi sembra strano che si intitoli Lorenzo Pastrovicchio quindi non so effettivamente che cose devo andare ad ordinare in fumetteria perché è un problema ma probabilmente non lo ordino in fumetteria perché voglio vedere che storie ci saranno mi pubblicizzano il tutto con un'immagine di Dark and Blot dubito ci sia Dark and Blot perché qualunque di Dark and Blot mi prendi mi occupa un terzo del volume e sinceramente non mi pare una scelta così azzeccata per quanto Dark and Blot a me sia piaciuto per carità però ho già la definitive avere un solo capitolo su tre di Dark and Blot probabilmente il primo mi occupa un terzo di volume se vuoi farmi vedere un po' anche l'excursus e l'evoluzione del disegnatore mettermi una storia così non ha molto senso però vedremo siamo adesso invece ad un volume particolare vi mostro prima questo per farvi vedere più o meno che cosa ne salterà fuori perché è di questo che stiamo parlando salterà fuori qualcosa del genere tant'è che una prima immagine che ho visto ancora di una copertina Work in Progress non su Anteprima perché l'ho trovata non su Anteprima ma su un sito che ha riportato un comunicato Panini che gli era arrivato e nel quale se ci riesco vi faccio vedere il concept era lo stesso quindi coso giallo sole giallo in fondo personaggi una scritta qua il titolo del volume lassù in alto sarà sempre cartonato quello che vediamo su Anteprima è che ci assomiglierà molto a questo quindi avremo effettivamente sto grigino in sottofondo con i disegni vari ed eventuali e quant'altro e si pronuncia quindi un albo esteticamente carino ve l'avevo detto quando l'avevo comprato il Grande Miki quando ho fatto la video opinione che il volume è bello a me piace è un oggettino carino e l'altra cosa su cui voglio anche un pochettino fare grosso perché me lo posso permettere in questo caso che sarà una nuova collana che si intitola Disney d'autore anche se non sarà questo Disney d'autore che insomma era una gran bella collanona della Disney Libri 500 pagine 500 rotte pagine per 14,90 euro il prezzo rimane lo stesso no ti giuro ti immagini fanno no non possono farlo non possono fare queste selezioni spero non facciano queste selezioni di storie altrimenti vabbè non l'ho non l'ho ancora ordinato e non penso di ordinarlo finché non mi dicono il sommario perché parliamo del volume 1 e 2 di Silvia Ziche nella collana Disney d'autore della quale non ci viene detto nulla della quale si può ipotizzare non ci saranno i grandi classici se vogliamo quindi dubito che occupino più di metà del volume con Topo Colossal e più di metà del volume con Il Papero del Mistero quindi no ci saranno storie non di minori tra virgolette storie più autoconclusive o magari a poche puntate saranno due volumi il primo dedicato alle avventure a Topolinia e il secondo all'avventure a Paperopoli le due copertine sanno poco da Silvia Ziche quella di Paperina e Paperina ancora ancora è caruccia a me piace come copertina come concept quella di Topolina e Pippo a me non piace appena l'ho visto ho detto ma davvero Silvia Ziche ha fatto sto disegno ha fatto sto Pippo a me non piace per niente come è stato disegnato proprio bruttino ed è un peccato perché la Ziche è una signora disegnatrice e qui ci cade mi è caduta parecchio sulla copertina ovviamente poi dopo nulla da che ridire sui suoi cariatira su tutto un pochettino il suo escursus ma il fatto che sia per il primo che per il secondo volume Panini ci voglia semplicemente far sapere che sono cartonati e sono belli mi fa dire va bene ma le storie a me non interessa sapere che sono belli io voglio sapere che cosa vado a comprare e che cosa vado a preordinare il fatto che a un mese dall'uscita ancora non sappiano dirmi una storia contenuta all'interno di questi due volumi a me non sta bene cioè non è che a me non sta bene a me non piace è un problema secondo me è un grosso problema oltretutto avete visto quanto è stato travagliata farci sapere come sarà questa testata cioè ha fatto un annuncio in un tipo cioè era tesori made in Italy volume 11 poi hanno annunciato che sarebbe stato cartonato faceva parte di una collana che si chiamava i tesori disney 11 adesso si chiama disney d'autore si accettano scommesse per come lo chiameremo nella prossima anteprima a sto punto o che cosa salterà fuori come si chiamerà una volta che sarà uscito questo volume sembrano critiche un pochettino a sé perché effettivamente uno acquista quando esce e vede un po' quel che esce però effettivamente è un una mancanza di comunicazione un difetto di comunicazione anche piuttosto importante anche perché me lo annunci come uno di tre volumi a 6,90 euro e finiscono per essere due volumi a 15 euro senza contare che voglio dire mi hai fatto diventare una collana popolare anche intrigante una cosa da elite e il fatto è che il fumetto stia diventando sempre più da elite per me è un problema perché mi obbliga a fare delle scelte ulteriori rispetto a quelle che avrei fatto usualmente non vendeva abbastanza non andava bene boh me l'hai reso un prodotto di super lusso mi dispiace allora per questa cosa qui per questo testate nello specifico mi sembra abbastanza una presa in giro ve lo dico abbastanza chiaro e tondo sembra quasi che abbiano chiuso nel momento in cui si poteva chiudere per cercare di massimizzare i guadagni con una nuova collana così non fosse ok però la sensazione che ho avuto è quella ed è una brutta sensazione sinceramente ed è anche un po' il motivo per cui non ho preordinato questi due volumi né li preordinerò io vi invito a non preordinarli perché perché è giusto che voi sappiate che cosa costate per comprare ed è giusto che quindi ci dicano che storie ci sono al loro interno soprattutto se sono albi da collezione quindi per un pubblico esigente e soprattutto se hanno un costo di 15 euro volume che non sono pochi che non sono pochi sinceramente quando ho comprato questo disney libri a 15 ecco questo qui è un prodotto che allora al fatto che erano altri tempi e tutto quanto però 15 euro per 500 pagine è un prodotto popolare comunque 15 euro per meno di 200 pagine non è proprio la cifra che vorrei spendere per un albo disney però ripeto aspetto di averne i sommari il concept di copertina è carino i disegni di copertina non mi convincono e non mi sembrano né così tanto belli ed elegante da vogliarmi ad acquistarli a scatola chiusa quindi panini disney fate un po' voi la prossima volta cosa volete fare proseguiamo con le più grandi avventure disney numero 1 storia quindi sarà una nuova collana che andrà per aree tematiche e a tutti gli effetti l'altro topo hanno chiuso l'altro topo che aveva il formato quello più grande il formato se vogliamo da definitive quel tipo di formato lì WAC quel formato lì ha 200 pagine se non ricordo male l'hanno chiusa adesso apre a formato piccolino cioè lo stesso identico formato di questo per intenderci 240 pagine a 5 euro oltretutto il prezzo si sono stati tutti i prezzi diciamo che hanno fatto uno standard per cui tutti gli albi disney sono diventati 192 pagine a parte del topolino 192 pagine a 3 euro e 90 e sarà più o meno questo formatino qua che però hanno fatto davvero un lavoro buono cioè vi faccio vedere che sto facendo così ma sta copertina l'albo si apre alla grande e il volume non scricchia per niente la carta è un pochettino più porosa ruvida ma non fa vedere quello che c'è sotto insomma i materiali a me sembrano molto migliorati molto migliorati il fatto che costino un pochettino di più con questi miglioramenti per me ci sta è comunque un prezzo abbastanza basso abbastanza popolare e 240 pagine in quel formato lì a 5 euro sono un po' tantini però dipende uno che cosa sta cercando spero che ci siano degli editoriali degli approfondimenti il fatto che mi venga segnalato che il primo argomento è storia in maniera molto vaga e mi segnali una storia sul Medevo o una sull'antica Roma secondo me trova un po' il tempo che trova però vediamo che cosa salterà fuori vabbè carrellata sulle serie regolari The Rosa Library prosegue col 18esimo numero vuol dire che a giugno ci esce il ventesimo e chiudiamo questa serie hanno calato le pagine ho saputo di un po' tutte le collane quindi peccato però ci prendiamo un po' quel che c'è non hanno aumentato i prezzi se non altro e le serie proseguono tutte nella norma in realtà c'è il Disney Big che finalmente hanno deciso che non sarà più 500 pagine ma rispetto a come è uscita a gennaio dovrebbero riportarle a 416 uscirà il nuovo The Best of Topolinea 2019 che si chiamerà solamente The Best of Topolinea esce ad aprile e non a luglio-agosto come gli anni scorsi a me va benissimo perché comunque ci sta non so se ho già acquistato il The Best of Paperopoli ha ancora la copertina e i materiali vecchi in realtà bisogna vedere se per il The Best of Topolinea fanno il cambio di materiali o meno me lo auguro però vedremo e ufficialmente avete visto che ho preso io pippo io virgola pippo uscirà noi qui qua ufficialmente saranno quindi volumi l'ho preso perché mi piaceva mi intrigava in realtà non l'ho letto alla fine ancora però lo leggerò noi hanno chiuso gli highlight per fare una nuova sottocollana intitolata io o noi personaggi ci sta in realtà è chiaramente il proseguo degli highlight solo che avendo cambiato carta materiali quant'altro hanno voluto dare questo taglio qui però effettivamente è il vecchio highlight né più né meno una selezione di storie su quel determinato personaggio fatto questo torniamo a due volumi che ho lasciato indietro apposta per chiudere un po' il discorso su questo tipo di prodotti partiamo dal primo che è la riedizione di fantonius 5 sapete che hanno chiuso da poco la definitive collection e qui ci dicono che fanno una ristampa del quinto numero quindi il quinto numero è andato così bene che è esaurito esaurito fanno una ristampa in edizione limitata con una cover alternativa il mio feticismo per le cover mi fa dire che questa è molto bella ed è una cover che probabilmente gradirei avere quindi sono abbastanza indeciso su che cosa fare forse finisco per prenderla anche perché è tiratura limitata o tutti gli altri volumi non ho preso il cofanetto ma un pochettino amen il fatto che sia finita e me la riproponi mi fa dire che alcune testate dalla definitive andavano bene quindi mi hai chiuso quella collana semplicemente per poi riaprirla in un secondo momento avevi già in mente qualcosa del genere probabilmente panini e la cosa mi fa pensare che hai agito un pochettino sporco ora non ne ho le prove non ho modo di dimostrarlo però la sensazione al lato mio è che hai fatto una comunicazione pessima se non altri hai fatto una comunicazione pessima nel quale hai segnalato che un prodotto non andava quindi l'hai chiuso mentre invece volevi semplicemente rinnovarlo allora panini perché non ci hai detto subito che volevi rinnovarlo la mossa non mi è piaciuta non mi è piaciuta e mi sa un pochettino di presa in giro al di là del fatto che il primo volume che mi riproponi della nuova collana ha una foliazione ridotta tutto sommato è un prezzo maggiore ridotta non è vero perché comunque è più o meno la foliazione la foliazione classica della definitive però ha un prezzo molto più alto e non lo so secondo me devi fare subito chiarezza su sta cosa qui ed essere più onesta con noi lettori piuttosto che fare questo gioco del chiusura apertura cosa che hai fatto anche per PkGiant piuttosto fastidiosa al punto che in realtà per PkGiant l'ultimo numero uscito prima della chiusura aveva già i materiali almeno da coperti le pagine dei materiali nuovi la carta lucida degli ultimi brossurati iniziativa brutta brutta ve lo posso dire proprio brutta mi dici fin da subito che vuoi rinnovare perché la testata così non sta andando bene è un conto mi chiudi e poi mi riapri facendoti sembrare la salvatrice è un po' mi stai sulle scatole sinceramente nonostante tutto chiudiamo questa anteprima parlando di l'ultimo prodotto che ho rimasto in sospeso riprende la Legendary Collection nel formato extra ma non prosegue con i mercoledì di Pippo cosa che mi sarei aspettato in realtà sinceramente ma con Xmiki ho preso qua il volume 910 avete visto che probabilmente i poppini di Topolino lassù in alto si sono modificati di postazione perché ho tolto due volumi ed è cambiato tutto questi albi qui costavano 4,50 avevano una foliazione di 132 pagine comprese copertina seconda, terza e quarta di copertina quindi in totale dovremmo avere un albo da insomma se fosse foliazione doppia 264 264 di cui in realtà insomma abbiamo due copertine due quarte di copertine cioè qualcosa si può un attimino recuperare mentre invece il volume segnalato su anteprima ha 288 pagine quindi sarà più grande di così sarà un pochettino brutto l'effetto finale dei volumazzi finali più grossi però diciamo che mi può andare bene personalmente penso che prenderò gli ultimi volumi quindi l'11 il 12 non so quanti ne vogliono fare nonostante abbia recentemente e lo si vede lassù in alto acquistato tutti gli spillati ho recuperato tutti quanti gli spillati e quindi era una storia che stavo cominciando a leggere per farvi i video come se avessero continuato a fare la collection degli xmiki la cosa che un attimino mi stranisce è non capire bene che cosa vogliono fare perché 288 pagine permette permette di inserire più di 4 spillati visto che ogni numero conteneva 2 spillati in 288 pagine ci stanno più di 4 spillati quindi vogliono fare tipo 4 spillati e mezzo oppure la volontà è quella di metterci tanti extra recuperare qualcosa rimasto in sospeso o quant'altro in realtà mancavano 10 spillati mettendoceni facendo due volumi con 4 e 4 rimangono due spillati soli che a questo prezzo mi pare un pochettino strano la mia speranza il mio augurio del motivo per cui investirò in questi volumi è quella di vedere raccolte non solo le storie degli spillati ma anche le storie apparse solo su Topolino non solo le ultimissime ma anche il primo blocco uscito sui Topolini 2600 2700 con i quali sarebbe possibile effettivamente in un numero di numeri più o meno limitati a 3-4 4 credo in realtà fare tutte quante le storie di Xmiki raccolte in questo formato qua me lo auguro in realtà non c'è scritto da nessuna parte che vogliono fare questa cosa qua è un augurio una speranza che mi faccio visto anche il fatto che ci dicono che la folliazione è comunque 288 e fai 4 spillati e mezzo ci sta 4 spillati e mezzo 4 spillati e mezzo vengono fuori che ne hai fatti 9 quindi rimarrebbe uno spillato solo a sé un pochettino strano oltretutto con uno spillato solo secondo me vengono fuori davvero tre numeri con tutte le storie di Xmiki ci potrebbero stare ci potrebbero stare e quindi in tre numeri mi fai tutto Xmiki la cosa ci può stare in realtà velocizzi molto la pubblicazione fai i volumi belli grandi il prezzo è un pochettino cioè di primo acchito sembra alto ma tutto sommato è in linea per un prodotto da edicola con una folliazione del genere cioè parliamo di 280 pagine neanche le pubblicazioni allegate ai quotidiani costano così poco per queste folliazioni al momento e sinceramente mi sentirei di poterci andare a investire chiaramente per chi non ha acquistato i primi 10 numeri è un po' così però vedremo vedremo che cosa salta fuori la mia speranza è che questa formula dell'extra edition prosegua anche per altre testate quindi non solo Xmiki ma anche con le altre serie rimaste in sospeso della leggenda e quindi i mercoledì di pippo nel quale vi ho già detto qual è il difetto proprio massimo dei mercoledì di pippo ovvero sia che lette le prime 8 storie le altre sono praticamente uguali quindi vanno lette secondo me col contagocce perché se no è un mattone incredibile però prese singolarmente le storie secondo me sono molto divertenti ma questo per la leggenda per la definitive fare due volumi della storia della baia porta a finire le storie della baia dopodiché ci sarebbero ci sarebbe solo double duck da portare a compimento e la cosa mi piace la cosa mi piace perché vuol dire che velocizzi molto la pubblicazione delle serie così lunghe così corpose e le riesci a finire probabilmente già nel corso del 2019 e nel corso del 2020 ci puoi inserire nuove serie a 8,50 euro per 280 pagine mi sembra un rapporto tutto sommato convincente non so non mi ricordo quanto era i guardiani il pippo il signore della galassia era sicuramente più pagine per 7,90 euro però le storie del grande blu mi sembra che più o meno la folliazione era questa e anche gli altri volumi usciti in quel formato lì anzi c'era le cronache del regno dei due laghi che era cortissimo quindi probabilmente hanno voluto tentare in quel modo vedere se le storie potevano andare in quel formato lì hanno visto che sono andate benino e quindi hanno voluto proporre la definitiva e la leggenda in quel formato ce lo si augura perché almeno si vuole andare a concludere le storie rimaste le serie rimaste in sospeso con dei bei volumi belli corposi ad un prezzo comunque ancora accettabile comunque cioè i prezzi non sono popolari perché si parla di una cifra un po' sostenuta però per la mole di materiale che ci troviamo davanti direi che il prezzo è comunque risulta comunque accettabile o almeno per quanto mi riguarda penso che lo possa essere e quindi io supporterò l'iniziativa ve l'ho già detto e spero che chi abbia seguito Xmiki abbia tutti i numeri voglia supportare l'iniziativa come ho fatto io me lo auguro perché siamo in tanti dimostriamo un segnale positivo e chiaramente non vi obbligo a farlo cioè se non volete perché nel frattempo avete fatto come me che avete recuperato gli spillati ok qui non sono elencate tutte le storie quindi non so se vogliono fare cose strane anticipare delle storie piuttosto che altre qui sono segnalate le storie dei tre numeri successivi neanche tutte però chiaramente se l'intenzione è quella di portare avanti questo tipo di collana ok probabilmente vogliono portarla avanti vogliono portarla a compimento se non altro con un po' di fortuna avremmo tutti gli spillati però non penso che vogliano fare qualcosa di strano tipo 4 e 6 non avrebbe senso in quel caso con 4 e 6 con due numeri chiudono la serie non sarebbe male neanche così però ecco io mi auguro che mettano anche tutte le storie a parcia solamente sul topolino piuttosto che e poi vi dico personalmente fosse stato in panini avrei proseguito con visto che erano le ultime cose subito con i mercoledì di pippo perché comunque erano già lì lasciato interrotto lì dimostri che vuoi proseguire subito quello che avevi finito però il fatto che siano tornati indietro e vogliono finire xmiki lo vedo comunque come un segnale positivo molto probabilmente i mercoledì di pippo verranno una volta concluso effettivamente xmiki questo è quanto avevo da dire per oggi penso che il video sia venuto particolarmente lungo ma c'erano effettivamente tante cose da dire qui sotto nello spazio di commenti aspetto vostre opinioni pensieri in merito a queste anteprima cosa vi è piaciuto cosa non è piaciuto cosa comprerete cosa non comprerete scrivete tutto qui sotto qui da francesco i pop alle mie spalle dalla soffitta di camera meno più soffitta è tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale ciao ciao